GF VIP 7, Nicole Murgia rivela secondo lei vincerà il programma. Nicole Murgia non è più una concorrente dell'attuale GF VIP. Eliminata da una delle ultime votazioni da casa. L'attrice si è lasciata andare a qualche confessione per i microfoni di casa chi? Al format social del magazine condotto da Sufico Degoni non poteva certo mancare Nicole. Che nonostante la breve permanenza rispetto agli altri, si è rivelata comunque una degna protagonista. Subito le hanno chiesto, appena arrivata, se una volta fuori dalla casa abbia davvero incontrato la madre di Edoardo Donna Maria. Come lui stesso le aveva chiesto. Viste infatti la situazione con Antonella, il volto di forum aveva raccomandato a Nicole di tranquillizzare la sua mamma. A differenza di quanti credono, tra loro due c'è solo una grande amicizia, ha voluto ribadire. Anche se Antonino non sembra tuttora ricambiarla. Dioriano in finale si è detta molto entusiasta, tanto da aver festeggiato a casa appena appresa la notizia. Con la Fiordelisi ormai, invece, nulla da fare. Nonostante Nicole sia entrata con tutti i buoni presupposti. Nel giro di una settimana sono sfumati. Un altro tasto dolente per lei, si è risolto piano piano in casa. Parliamo della sua relazione passata con Andrea Maestrelli. Su cui hanno messo definitivamente, a quanto pare, una pietra sopra. Secondo me potrebbe vincere Oriana Oriana Tavassi ha infine sentenziato circa il papabile vincitore di questa edizione. Secondo me potrebbe vincitore di questa edizione passata con Andrea Maestrella. Grazie. 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 Grazie.